logo di farmare solo quelli rosa no raga farmiamo tutte cose andiamo a prendere quelli quelli di di rock rock slime e magari se c'è anche qualche gattino così ce lo teniamo nell'inventario vendiamo qualche cosa e tutto bene se non c'è qualche cosa non c'è il gatto se tocchiamo che cazzo ma pensavo che era intanto tipo a c'è il gatto a posto quindi il gatto per ora guardate quanto ben di dio qua siamo vicino casa cioè possiamo andare a vendere possiamo andarli a vendere tranqui 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 ce la facciamo ce la facciamo ne lascio qualcuno qua voglio essere lasciati qua ok e questo lo prendo pure questo è un libro non sono un costo va bene ritorniamo indietro qua non ce n'è rock slime perché appunto e anche questi 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 no 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 questi sono meglio questi sono meglio questi di qua abbiamo bisogno però di una di un luogo cioè di un coral un pochettino più scuro perché questi al sole muoiono però non so che cosa mangia allora qua ci dovrebbe essere scritto fosforo slime più berri noi abbiamo di berri si appunto ma ne abbiamo solo uno quindi li dobbiamo far ma no raga ho sbagliato allora vendiamo tutti questi e vediamo se il coso lo possiamo far diventare più alto e magari scuro e fermiamo questi perché guardate vi faccio vedere subito loro danno questi che danno 20 e sono in crescita quindi è una cosa buona perché appunto cioè danno un casino di money per appunto fare questo dobbiamo mettere sola shield cioè il scudo dal sole per loro alzare le mura perché loro volano oppure ehm air net cioè perché loro volano cioè volano quindi possono uscire ehm questi di qua i poco fruit non li ho piantati non so se posso piantarli cioè io ci provo vediamo ok facciamo un altro garden qua purchase e mettiamo i poco fruit qua dentro ok così loro dovrebbero crescere e questi di qua ce li leviamo e li diamo no raga ma che cazzo state a fa' cioè sono pure intelligenti no sono intelligentissimi sti cosi ok tieni qua cibo 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 va bene a posto eh dobbiamo alzare le mura pure qua ragazzi è un gioco veramente impegnativo hike to wall 350 eh i soldi non sono difficili da farmare però ci vuole abbastanza tempo mangia mangia amoni mangia ok una mangiato ora cagano eh e dobbiamo prendere tutta cosa prendiamo tutto ok va bene fatto ne ho dati 5 quindi più o meno si 5 ah 6 eh buttiamo tutti questi questi che non ci servono va bene e andiamo a vendere questi di qua così ah qua c'è un altro buono 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 prendiamolo 7 così ci facciamo quanto costano 11 money quindi 77 money va bene però dobbiamo fare un altro garden appunto per questi quindi dovremmo sbloccare un'altra zona perchè la vorrei farmare più o meno tutti cioè da questa zona faccio una zona a parte qua magari danno delle ricompense rai jex angelo offline come faccio ad attivarlo come faccio ad attivarlo magari devo fare qualche cosa questo me li tengo ragazzi perchè mi servono magari andiamo in giro ne cerchiamo qualcun altro cerchiamo qualche altro cibo ok qua c'è un altro visto che volano quindi per forza dobbiamo fare un air net allora non ho incontrato ancora mob cattivi per fortuna qua prendiamo questo eh non ce n'è più qua c'è un altro acqua ecco perchè mangiano qua che ci sono ste cose va bene in giro ci saranno anche dei gatti che dovremmo dare molto ma dico veramente molto cibo ma ma acqua quanto ce n'hai raga così quel gatto ci sbloccherà o portali o ricompense la maggior parte delle volte sono portali quindi e servono perchè ci teletrasportano da una parte dell'isola a un'altra parte dell'isola tipo siamo la a posto di fare ogni volta avanti e indietro noi prendiamo il portale e ritorniamo subito a casa io per ora qui i portali ancora non ne ho visti quindi penso che all'inizio siano un pochettino inutili allora rock slime prendiamo tutto prendiamo tutto 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 così perchè ci servono i money no si sono accoppiati vaffanculo allora qua prendiamo tutti questi e anche tutti ah una cassa buono no non si è rotto perchè boom buono buono soldi soldi questi sono soldi allora qua c'è un altro di questi un altro di questi e un altro di questi va bene non ci arriviamo a 20 così magari ci facciamo molti più money cioè dai uno per uno vi state confondendo vabbè magari ora tornando indietro li incontriamo e ritorniamo non incontro ancora questi rock perchè ci scassano perchè si accoppiano lo dovevo prendere quello sono stato un cretino che non l'ho voluto prendere questo che cosa ah è una cosa delle più verdi qua non ce n'è non c'è niente qua ah qua c'era uno a posto a posto qua c'era un altro no è uno uno slime allora ora ci facciamo questi quanti ce ne facciamo minchia calcoli difficili 111 vabbè non lo so non sono in matematica c'ho 4 che cazzo non ne frega allora e vendiamo tutto questo qua e anche il rock slime che stanno scendendo caccio il loro prezzo è in cadenza questo il magma sta salendo mamma mia raga visto perchè c'è pure l'economia in questo coso allora vediamo che posso fare eh i2 wall 350 non posso fare niente qua non si attiva non so perchè range of line perchè non ti attivi non lo so no che cazzo il kuberry no 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 mi serve ok non c'è niente cioè io non so che fare perchè le arene per sbloccarle costano 350 qua che cosa sono no devi lasciare le arene per sbloccarle cioè le nuove aree anche sono cresciuta si sono cresciuta cazzo ora pianto kuberry a manetta le maxi arrester time sono mangiato la gamma la foto fa mi ero spaventato allora qua per sbloccarlo costa 1500 e noi non li abbiamo tutti questi moni non possiamo vendere nemmeno carote perchè allora range of source carlotte binghi ma questa è la slide in pedia vabbè non possiamo fare niente qua c'è la nostra casa non è che ci possiamo entrare presento attivo e star mail slip ma possiamo dormire guardate il tempo oh mio dio le torne torrenti oh cazzo che figata che figata raga allora sicco ah ecco questo che mangia eccolo ecco capito allora prendiamo questi e le carote ce ne diamo un pochettino visto che abbiamo bisogno di soldi allora ce ne teniamo come al solito 1 ok una nevolata prendiamola tiriamo vabbè no raga questi sono troppo intelligenti questi escono sono cazzuti sono cazzutissimi prendiamone un altro cazzo sbaglio sempre tasti di dove invertire ma mi cerca ok 1 e 2 va bene sempre poco prezzo no cazzo raga cazzo sono usciti va bene riprendiamoli tutti e li rientriamo cioè fammeli prendere tutti fatto magari li dobbiamo dividere cioè ora questi facciamo una cosa li metto qua così mi viene meglio prendere tutte cose ma ma altre carote raga posso fare le peggio cose raga posso fare le peggio cose mangiate 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 eh perchè le ho date tutte perchè tanto la ce ne sono ancora ok a posto 12 carote 13 carote raga che figata oh mio dio raga oh mio dio no raga siamo fatti troppo ricchi siamo fatti troppo ricchi diamoci un pochettino di poco fruit perchè se no ci riempiamo troppo ok no 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 ora sta succedendo una cazza da orva ok perchè se no mi fotte tutti poco fruit va bene va bene ok tu da qui te ne devi andare e non so come farlo andare questo è il problema come lo facciamo andare raga come lo facciamo andare c'è un poco fruit no non so dove lasciarlo dovrei fare un